Sì, in generale ognuno di noi diventa responsabile di una specifica commessa e si coordina con gli altri. La conciliazione delle attività lavorative con quelle della famiglia non ha modificato questo modo di operare, però ha aumentato la collaborazione all'interno dell'azienda e quindi questo ha portato anche a una maggiore produttività e alla possibilità di scoprire con un certo anticipo eventuali problematiche e quindi poterli affrontare per tempo e garantire un miglior successo delle iniziative. Quindi secondo me queste iniziative di conciliazione alla fine hanno avuto un buon risvolto dal punto di vista lavorativo e tra l'altro ci fanno sentire molto contenti, anche molto fiduciosi verso il datore di lavoro e questo crea un clima molto bello dentro l'ufficio, quindi io direi che è stata una grande cosa. Grazie per la visione!